Presentato all'Ars, ordine del giorno, istituzione e commissione d'indagine sulla gestione della pandemia. Ho anticipato nel corso del mio intervento di ieri in aula la presentazione di un ordine del giorno avente per argomento la proposta di istituzione di una commissione speciale d'indagine sulla gestione della pandemia dovuta al coronavirus Covid-19. A renderlo noto è l'onorevole Giovanni Caffeo, segretario della terza commissione Ars attività produttive. Come avevo pronunciato negli scorsi giorni, una volta terminata la fase acuta dell'emergenza sanitaria, continua Caffeo, verrà il momento di verificare con attenzione quanto accaduto anche alla luce di quanto riportato alla stampa e evidenziare così eventuali responsabilità politiche, essendo ovviamente di pertinenza della magistratura a qualunque aspetto giudiziario. Tale indagine che compete il Parlamento nell'esercizio delle sue fondamentali funzioni, prosegue Caffeo, nell'ordine del giorno presentato è finalizzata anche a prevenire ulteriori criticità e assicurare che effettivamente la Sicilia sia predisposta e pronta a gestire al meglio le esigenze di prevenzione e di risposta. È mia intenzione sottoporre questo ordine del giorno a tutti i colleghi deputati, proprio in nome del rispetto dovuto all'Aula su questo tema così delicato sul quale si esige la massima chiarezza, a prescindere dal colore politico di appartenenza. Appare evidente poi che il lavoro della commissione d'indagine non va in alcun modo a intrecciarsi con quello della commissione sanità, precisa Caffeo, dato che proprio quest'ultima sarà impegnata e ne sono certa a studiare nuove ed efficaci soluzioni per la completa riorganizzazione del settore in Sicilia, guardando dunque al futuro e non più al passato. Infine ho chiesto all'assessore Aranza un intervento immediato con l'obiettivo di mettere in campo ogni iniziativa volta a verificare la situazione nell'ospedale Umberto I di Siracusa, ripristinando le condizioni di sicurezza ma soprattutto la credibilità nei confronti dei cittadini. In previsione nell'istituzione della commissione d'indagine è stato attivato un indirizzo e-mail segnalazioni-giovannicafeo.it dedicato alla raccolta delle segnalazioni e dei disservizi riguardo al comparto sanitario di Siracusa. Il materiale sarà raccolto in forma anonima ma ovviamente le segnalazioni dovranno essere ben circostanziate e correddate se possibile di adeguata documentazione comprovante l'avvenuto di servizio.